Facciamo a gatto volato via? La ragazzina rimase sorpresa, poi sorrise, come avrebbe fatto una donna, di fronte a quella proposta che la offendeva un po' e anche la stupiva, e mormorò, ma una casa non è mica fatta per giocarci. — Che importa? rispose lui, io gioco dappertutto. Su, mi acchiappi! e si mise a girare intorno al tavolino, incitandola a rincorrerlo, mentre la piccola lo seguiva con un sorrisetto quasi di cortese condiscendenza, allungando ogni tanto la mano per cercare di toccarlo, ma senza mai abbandonarsi alla corsa. Lui si fermava, si acquattava, e quando lei gli si faceva vicina col suo passettino titubante, scattava su come il baobao da una scatola sorpresa, e con un sol balzo raggiungeva l'angolo opposto del salotto. La cosa la divertiva e finiva con ridere a sua volta, e animandosi a poco a poco, già cominciava a trottererla gli dietro con dei gridolini di gioia e di timore, quando le pareva d'averlo acciuffato. Lui spostava una sedia, se ne faceva un ostacolo, costringendo per un attimo la piccina a girare intorno a quella che, d'improvviso, abbandonava per afferrarne un'altra. Laurin adesso correva liberamente, si abbandonava tutto al piacere di quel gioco nuovo e, un poco accesa in volto, rispondeva con tutto il suo slancio di bambina entusiasmata a ogni fuga, a ogni stratagemma, a ogni finta del compagno. D'un tratto, proprio mentre lei credeva d'averlo raggiunto, Duroi la strinse fra le braccia e, sollevandola fino al soffitto, gridò, Gatto, volato, via! Riportò l'articolo l'indomani, gli venne di nuovo restituito. Lo rifece per una terza volta e, vedendoselo rifiutare ancora, capì che voleva correre troppo e che soltanto la mano di Forrester avrebbe potuto aiutarlo sulla sua strada. Così non parlò più dei racconti d'un cacciatore d'Africa e si ripromise di essere docile e scaltro, giacché quella era la via, e di fare con zelo, in attesa di meglio, il suo mestiere di reporter. Conobbe il retroscena dei teatri e quelli della politica, i corridoi e i vestiboli degli uomini di Stato e della Camera dei Deputati, le facce importanti dei segretari di gabinetto e i musi aggrottati degli uscieri insonnoliti. Fu in continuo contatto con ministri, portinai, generali, agenti di pubblica sicurezza, principi mantenuti, cortigiane, ambasciatori, vescovi, ruffiani, avventurieri stranieri, uomini di mondo, bari, vetturini, camerieri, e tanta e tanta gente d'ogni sorta. Ne divenne l'amico interessato e impassibile, e a furia di vederseli davanti ogni giorno, a qualsiasi ora, e senza avere il tempo di poter di volta in volta adeguare il proprio animo, a furia di parlare con tutti delle identiche cose inerenti alla sua professione, finì col fare di tutta l'erba un fascio, col misurarli tutti con lo stesso metro, e col giudicarli con lo stesso occhio. Proprio come chi, secondo un paragone a lui caro, dovendo assaggiare l'uno dopo l'altro, i campioni di tutti i vini esistenti, presto non sa più distinguere lo Chateau Magot dal Agentel. In breve tempo divenne un reporter di notevole valore, sicuro delle sue informazioni, astuto, svelto, sagace e veramente prezioso per il giornale. Come diceva Zewalter, che di redattori se ne intendeva. Ciò nonostante, coi suoi dieci centesimi la riga e i duecento franchi di stipendio fisso, dato che anche il costo della vita di un caffè e di un ristorante sul boulevard era sempre in bolletta, e non se ne dava pace. «Devo imparare il trucco anch'io», pensava, scorgendo certi suoi colleghi sempre con le tasche gonfie d'oro, senza peraltro riuscire mai a capire a quali segreti espedienti essi ricorressero per procacciarsi tanta agiatezza. Pieno di invidia immaginava intrallazzi a lui ignoti ed equivoci, ricompense per favori fatti, tutto in un commercio illecito ma pur accettato e consentito. Già, doveva penetrare il mistero, entrare nella tacita associazione e imporsi ai colleghi che si dividevano la torta senza di lui. Più di una volta gli capitò di pensare, la sera, mentre alla finestra guardava passare i treni, ai metodi che avrebbe potuto usare. Allora, Grazie a tutti